Nel mondo delle professioni sanitarie di fronte a una svolta epocale ci sono delle innovazioni importanti che riguardano l'infermiera specialista, esperto, ma anche il rapporto tra tecnici e clinici. Tutto questo potrà essere guidato meglio dalla dirigenza delle professioni se la dirigenza delle professioni assume una postura di ruolo che la vede più come la dirigenza dell'azienda che non la dirigenza delle professioni stesse. Mi spiego meglio, un conto è rappresentare le professioni nei confronti della direzione aziendale, un conto è far parte della direzione aziendale e trasformare l'organizzazione avendo chiara qual è la strategia di quell'organizzazione e lavorando con i professionisti perché questo succeda. Sono due visioni diverse come uno interpreta il proprio ruolo e il futuro delle professioni sanitarie, di chi dirige nelle professioni sanitarie dipenderà molto da come appunto i dirigenti sapranno interpretare al meglio questo ruolo e diventare legittimamente parte dell'alta direzione strategica delle aziende sanitarie.